Sono Sisa Bottero, ho 31 anni e vengo da Città Torinese. Sono una sciatrice che è una freerider, prediligo la risalita con gli impianti ma mi piace andare anche con le pelli, direi che non sono un'alpinista pura. Il mio set-up preferito è sicuramente largo sotto il piede, non meno di 100 e uno scarpone molto performante in discesa. Sono alta, 1,66 m per 60 kg e il mio piede è un piede da fatta a 37. Il mio sogno è andare in Canada.